Io non penso che siano sufficienti la creatività, il talento, guai se non ci fossero, è vero, ma non sono sufficienti. Occorre organizzazione, occorre rete, occorre squadra e il nostro territorio sta sperimentando questa cosa. Allora gli amministratori, i politici devono dare l'esempio. Io cerco quotidianamente con trasparenza di realizzare questo esempio, per cui il lavoro fatto andava reso trasparente verso tutti perché fosse una base per costruire la nuova programmazione, migliorando le cose che non sono andate tanto bene, ce ne sono, e potenziando e ampliando le opportunità che invece abbiamo generato e che abbiamo condiviso. Diario di Bordo è questo, è uno sguardo alle politiche fatte con i loro risultati, ma è soprattutto la costruzione di un percorso per il futuro, un percorso che adesso deve essere scritto insieme agli imprenditori di questo territorio, ai lavoratori, ai giovani, agli innovatori, perché la Puglia, come è stato giustamente detto questa sera, ha un suo dinamismo, una sua peculiarità che non deve invidiare nessuno, però ognuno deve credere nelle cose che fa e si deve impegnare e lo deve fare scientificamente. Questo richiede veramente una grande e straordinaria opportunità per il futuro da costruire insieme. La più grande opportunità che abbiamo perso è quella di fare rete. Siamo ancora troppo individualisti. Troppo individualisti le regioni del Mezzogiorno non riescono a costruire un percorso comune per entrare nel Mediterraneo con una forza trascinante. Questo riguarda anche le imprese, hanno difficoltà enormi ad unirsi e io sono convinta che non sia la dimensione a dover crescere, perché ci sono imprese piccole che devono rimanere piccole. Il punto vero è che però se si aggregano allora riescono ad affrontare meglio il mercato. Quindi questa è sicuramente un'opportunità persa che dobbiamo migliorare invece per il futuro. L'opportunità migliore realizzata è stata quella di investire sulla qualità di alcuni segmenti produttivi. Aerospazio, meccanica, meccatronica, nanotecnologie hanno rappresentato uno strumento di successo e l'investimento sul brand Puglia per altro verso ha generato un'attenzione internazionale che si è collegata con la buona qualità. Ora però anche qui c'è un segmento che dobbiamo percorrere, che è quello dell'organizzazione. Non basta essere apprezzati, essere ambiti, bisogna essere raggiunti. Per essere raggiunti, perché si investa ulteriormente nel nostro territorio, dobbiamo creare tutta una rete di servizi che richiede un'organizzazione. Grazie a tutti.